Salve ragazzi e benvenuti in questo primo episodio che non so se vedrete mai di Assassin's Creed Mirage Lo vedrete su Youtube? Non lo vedrete? Se lo state vedendo, vedere che c'è Ok? Vabbè Comunque, non so assolutamente niente, non mi sono spoilerato niente del gioco Ho una voglia di giocarci, assolutamente sì, andiamo in game Attenzione! Assassin's Creed Mirage Ah, devo riavviare il gioco? Perfetto Perfetto A posto Allora, grazie per essere passati ragazzi Ci vediamo al prossimo episodio Assassin's Creed Eccoci qua, Assassin's Creed Mirage Come prima Guarda che figo però Siamo noi Baghdad Quanto frame andava quella signora? A due frame Mentre basso? Allora alza Allora alza da lì qua Colpendo i nemici dall'ombra Un conflitto eterno Secoli fa Lui ne fu al centro Basim Basim Ok William Smiles Siamo quindi a Baghdad Ali principali Ali alia babba Perché era a Baghdad Perché era ambientato a Baghdad Diventa Diventa buitare vedere queste scelte Ti prego Siamo noi? Chi è? Che azione? Non lo so La faccia non mi convince Non mi dice molto Però adesso Per me è un casino Guardare Perché c'ho la luce puntata Mi vedo un cazzo Chi è? Sorella? Era ancora il jean Ah il jean E cosa voleva il vostro Cazzo ne prende a te Ah beh Ha chiudito il suo lavoro Ok dai fammi giocare un pochino L'assassino L'assassino Dai Dov'è il consenso del dovere? Il dovere non ci dà da mangiare Vero No Però Arricchisce lo spirito E mangia con lo spirito Dai Fammi un po' vedere Ok fammi fa Non puoi interagire Già chi si è compenetrato Mamma mia Fatti i cazzi tuoi Sto esplorando il mio lavoro Non mi sta convincendo Dico subito Da lì Provincia di Bagdada Danno 861 Al bar Andiamo al bar Se volete ragazzi Cosa prendete voi al bar? Ah ok L'occhio dell'aquila Ma così? Arrivo gli in culo la roba? Un po' posto Via Via Ma vai a fare in culo Bambino di merda Avete sentito? Non hai nessun altro Ma vai a fare in culo Neanche tu hai nessun altro Bambino di merda E muori presto Perché ti devi accovacciare Vabbè Lui arriva e non lo dovremmo Non mi posso muovere ragazzi R1 Qual è? Per tramortire Ho capito Gli puoi rubare l'arma Ruba il libro mastro Sì ma il problema è Come entro Mi devo intrupolare qua Mi devo fare i cazzi miei No? Tanto loro non mi sgamano Strano che si siano spostati Minchia Un pugno sul cervelletto Comunque Scusa Ti tramortisco un attimo Guardi Ha dato un cazzotto al coso Al Al seggiolino lì Aspetta fammi vedere se ce ne sono altri Che qua Non mi pare C'è sto qui che lo uccidiamo Niente Da un cazzotto Boh Così Mi ha sgamato Corri Dio Corri Non corre Corri quando gli para lui No Rimani dentro Non se ne è accorto questo qua Senza armi è un po' dura Ma va bene Devo andare di là Aspetta Guarda che c'è la luce negli occhi No vabbè dai Questa roba non te la passo Posso Posso rubarlo No Volevo rubargli il portafoglio Posso farlo adesso Si vero Ah ok lo posso fare A destra no L'ho già preso il libro Però mi sembrava ci fosse un nemico Però a posto Non mi ha detto niente a nessuno A posto dai Ah eccoli vedi Sono una cazzata Roshan Roshan Guarda Io lo dico Se per sta stronzata Divento un assassino Hai già capito Voglio vedere quanto ho mandato Non voglio lavorare per te Vediamo Vediamo i soldi Penso Ce lo diano Ce lo dicano D'accordo dare che vuole rubare una fionda come volava male con la moneta decidi chi vuoi andare perché hai girato di schiena non la sento non ho le cuffie l'ho sentita dalle cuffie ma non arriva andiamo 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 un gattino aspetta che carino ciao ok cerca un modo cerca un modo per entrare nel palazzo dov'è la fia è qua oh wow ti giuro ti giuro non le avevo notate quelle due guardie potrei anche ucciderle però proviamo a seguire il piano lei ha detto lei ha detto che sa come entrare fidiamoci pensa se ci tradisce occhio ci sono due sopra ci sono due sopra ah no due sopra basta tre sopra questi sono quelli che tipo lavorano per questi tizi però se mi vedono dovrebbero dire qualcosa no ma nei cazzi loro occhio vabbè qua almeno uno o due dobbiamo stenderli aspettate un secondo però qua c'è qualcosa ok già da mangiare non ho fame occhio non ci beh potevo farlo anche io una roba del zero non c'era bisogno di lei ci serve una chiave probabilmente ce l'ha questa qui ops sì ce l'ha questa qui come faremo mai a prendergliela non si sa tipo fischiando potrebbe essere un'idea o no non mi ricordo il tasto che devo premere ok questo questo qua vai nessuno si accorge di niente noi raccogliamo quello che dobbiamo raccogliere aspetta 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 merda 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 posto posto andiamo eh ammetto che è stato difficile me ne rendo conto merda merda guarda ormai non ti chiedo più una spada un taglia unghie dammi un taglia unghie tanto ormai posso combattere va bene che sono dei ladri però una piccola arma ci potrebbe servire il califo anche il calippo è lui hal mutawakil quello è un assassino in mano mi sembrava un assassino ha le mani dietro lo devo dire stiro fuori la lama guarda che belli vai no pratica attitua ma forza pensa che bello che il califo ha detto oh sì ve lo tengo io easy state tranquillo sì chi è non posso fare nulla posso solo camminare non posso fischiare non posso usare nulla questo lo posso urbare sì a posto non posso più vabbè è scritta arrivo ragazzi da fin un secondo eccomi qua salve andiamo non mi ricordo ok che cosa mi ruba sto coso ahia no califo no califo è morto il califo run rubagli il coso e corri bravo andiamo se andiamo se corri 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 ti fermo corri ti acci sua signorine scusami 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 no no che chiude la porta chiude la porta a puttana però si è levata dal cazzo velocemente ehi portai sciosti andiamo arrivederci mi saluti casa andiamo che male bambini levatevi dalle balle gente bambini levatevi dalle balle la tizia di minchia è despownata se no mi faccio col pincio voglia vado qua tanto con me però mi piano andiamo la tizia ha ucciso il califo e si è levata dalle palle subito vado di qua cosa avete fatto? mi ha dato il califo vedete voi che sia avete fatto il califo oh piatelo piatelo ma prendi sto coso in mano e niente e niente c'è sempre questo incubo questo incubo chi è? Ah, è la sossina. E' perché non so che cosa ho visto. Un po' di giù. E ha fatto qualcosa. E' un altro uomo. Freddo. Orribile. Mi sono ritrovato le mani del calippo svento intorno al collo. E' stato un incidente. Non mi è pensato. Tu poi posso aiutarmi. E' un po' di giù. Ho una barca che muove il piede. Così? No, non posso partire. Devo trovare il mio barco. Prestaci per il giù. Le guardie del calippo svento hanno cercato il giù. Un lato con la tua destra. Non si fermerà non si ferranno il giù. E quando almeno non mi sbatterà più di giù. Ma per il giù è una cosa. Ho dato un'altra posizione. Damo, damo. Sti ragazzi. No, non si so. Andiamo. Salve. Ciao, voglio di ucciderlo. Ho detto... Così. Che se ne frega. Salve. Posso levarmi da... Eh, ma io non posso combattere. Non ho un'arma. Non ho niente. In questo gioco sono dimenticati di mettere le armi. Anzi no, ce le hanno, ma i nemici. È giusto, no? Perché il protagonista dovrebbe avere delle armi. È buono. Al mestru quella lì. Perché tutto sto sporco... No. Non ci credo mai. Ma veramente? Vanno uccisi? Ah no, lei è viva. I bambini! I bambini! I bambini! Eh, si hanno ucciso tutti, anche i bambini. Che figli di puttana! Non me l'aspettavo. Non ci avevo fatto caso subito appena ero arrivato. Porca doia. Maledetto califo e le guardie del califo. Sti strosi. Appena c'ho un'arma, vedi che faccio. Gaccio una carneficina. Chi le puttana. Che figa la spada di lei! Signora, mi dà la sua spada. Dammi un'arma! Fami combattere. E mo' mi devi far combattere forza! E' brava lei, comunque. Ti prego, fammi combattere. Il salto dell'aquila, non mi ricordo. E fa male questo. Hubisop Original. Eh, si vede. Questo era proprio il prologo. Perché sono nudo, mo? Ancora sognando? Eh, si. Immagino sia un sogno, questo, no? Sono... Magari sono svenuto e mi ha portato in salvo la zia. Invece no. Può succederlo sto bambi? Due mesi dopo, ok. Quindi sono passati due mesi. Come è successo in questi due mesi? Ok, quindi certe piante ti fanno curare. A posto. Quindi è una sorta di addestramento per diventare assassino, immagino. Credo, eh, poi non... Ah, forse devo fare il salto. Il salto della fede. Ecco come si chiama. Anche questo è tutto un grande tutorial. Sì, sì. Non sono stato bravo? Non ti devi buttare di schiena, ma di testa e girare. Salve. Tutto bene? Eccolo. 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 E' italiano. E' cristallo. dai ti prego un'arma un'arma dopo un'ora di live ecco oh grazie per tagliare il prosciutto oh e vai bellina dove l'hai infilata questa tizia è interessante e vai l'ho appena detto vedate le armi fino adesso siamo dei personaggi super mega inutili ma veramente non serviamo in nulla il posto è bellissimo niente da dire il posto è spettacolare crepitivo del fuoco non me ne frega niente come si toglie qui là qua ti insegnano a combattere vediamo come la usiamo vediamo come la usiamo sono qui tutti e tre e questo dovrebbe essere il Perry quindi se mi attacca proviamo il Perry ok attacca mi voglio provare il Perry facendo sempre questo devo provare quando mi arriva a me mi ok col quadrato perfetto ok ok merda è sbagliotasto molto veloce lei porca troia è ben più forte tutto con un tasto l'attacco mi ci dovrò abituare mi ci dovrò abituare ok a più tardi adesso succederà qualcosa durante la ronda durante la ronda te lo dico 100-100 lui muore male ma malissimo te lo dico arrivo arrivo ti preoccupa amore arrivo arrivo eccoci ok ok posso lanciarla posso lanciarla che è successo? eh eh vedi te l'ho detto andiamo si e te pareva leggere agli stronzi però adesso almeno abbiamo armi quanti sono? due arrivo a mm vedete che l'ammazzo no sono tre 10 10 vabbè mi ha visto che cazzo me ne frega combattiamo un po' perfetto ah posso praticamente se faccio il perry perfetto posso ucciderli istantaneamente questa cosa è figa mi sbaglio sempre il tasto per schivare appunto eh sì pensavo fossero tre però vabbè sbaglio sempre il tasto perché premo cerchio invece premo il quadrato per schivare non è ma bene ma no io ho previsto che sarebbe morto lui c'ha la faccia di uno che muore 0 su 10 ma non è non è che i due mi hanno fattato sono fessi per questo mi ha visto per le anni molto sembrato capito Grazie a tutti Come è che muore? Questo a presto non suona benissimo Sicuramente muore e dobbiamo andare a vendicarlo Dai Ci hanno dato l'uccello Stiamo imparando Facendo anche tanti errori Ma stiamo imparando Questa cosa non è male Bello che ti insegnano pian piano Vedi? Ancora il combattimento ci ha migliorati Ma non riusciamo a batterla Questa cosa è buona Perché la barba ci fa somigliare sempre di più a Dio Questo vuol dire che stai diventando più forti Capito? Non so il paragone Vabbè però L'uccello adesso arriva senza nessun problema Noi continuiamo a meditare Quanto tempo è passato? Ci siamo fatti crescere la barba Quindi un po' sarà passato Accoglio automatamente il bottino dopo un'uccisione furtiva o un assassino Questa non è male Anche questo non è male Probabilmente preferisco prendere l'uccello Detta così è brutta Però Preferisco prendere questa per adesso Si farà Abbiamo imparato anche a fare il salto Che all'inizio non saltavamo così La pazza sia con te fra Assomiglio un po' a Jared Leto Un po' Ah è la lama No il dito ancora ce l'abbiamo Sì 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 Qua sì Sì Allora ancora dobbiamo toglierci il dito Ah quindi adesso perdiamo il dito immagino Nella mano sinistra E' un rito importante ma perdiamo anche un dito E' un rito dove perdiamo il dito Allora ancora dobbiamo toglierci il dito Ok 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 Bene. Addirittura, mamma mia, rovente addirittura, eh, uno solo, zio, ah, lo devo, lo devo fare io, ahiaia, 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 mi devo amputare un dito, ahia, eh, lo farò vento perché così si cicatrizza prima. C'ho già anche il guanto, cioè è già posto adesso, non mi sente più male. Adesso abbiamo pure la lama celata. A parte che, scusa, l'ha attivata facendo così con la mano, perché ti sei dovuto tagliare un dito se fai, ah, ok, devo vincere contro la sorella, eh, adesso che abbiamo un dito in meno siamo più forti, non mi ricordo più i tasti, aiuto, mi picchia, non mi ricordo più i tasti, aspetta, ok, focussiamola, così. Non mi fa più attaccare, non mi attacca, non mi attacca sempre, non so perché. Oh, e vedi che muore, l'ho detto che moriva, l'ho detto, fallo morì, che vinco con la scommessa. E che muore, eh. No, eh, no, farò morire. Dai, dai. E' morto! E' morto! tranne il personaggio, i personaggi non mi piacciono, il nostro poi men che meno, per il resto però è tutto bello. Bene, vedi, fai questo movimento qui, al centro, va. Ahi, vedi, fai questo movimento qui. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Mirage Dico la verità, come ho detto prima Il gioco non sembra male La trama vedremo Perché ancora non abbiamo visto praticamente niente Il nostro personaggio secondo me è troppo anonimo Troppo 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 anonimo Tutto il resto mi piace L'ambientazione mi piace Però il personaggio è super mega anonimo Gli altri personaggi di Assassin's Creed avevano una loro personalità Lui però no Secondo me attualmente no Quindi buona serata A martedì